Radio Puggini On Air Benvenuti a Radio Puggini On Air Nell'ultimo messaggio della Madonna di Trevignano la Madonna ha affermato che i messaggi a Gisella Cardia sarebbero stati sempre più frequenti dunque ci aspettavamo già un nuovo messaggio della Madonna ma non è ancora arrivato siamo in attesa sicuramente mancherà poco perché già la frequenza era di circa 10 giorni nei mesi passati dunque se la frequenza è aumentata tanto che dopo il 3 di settembre il messaggio successivo c'è stato il 7 dunque dopo solo 4 giorni ora ci aspettavamo un altro messaggio anzi lo aspettiamo con molta ansia non vediamo l'ora di riceverlo ma ancora non è arrivato la veggente potrebbe anche spiazzarci ma più che la veggente l'intero celeste divino potrebbe spiazzarci con un messaggio da parte di Gesù oppure anche di Dio come è accaduto in passato ma messaggi sempre più frequenti da parte proprio della Madonna di Trevignano li ha promessi la Madonna stessa nell'ultimo messaggio come dicevo del 7 settembre chissà che la Madonna non decida di smettere presto di dare questi messaggi a Gisela Cardia magari per l'imbarazzo che la situazione che si è creata può dare anche alla stessa Madonna che ha annunciato nell'ultimo messaggio sempre che oltre ad essere più frequenti arriveranno anche ad una fine ci sarà anche una fine di questi messaggi e questo non era previsto insomma è una novità degli ultimi giorni speriamo arrivi presto un nuovo messaggio perché per noi di Radio Puggino è essenziale ormai è fondamentale è proprio ossigeno non possiamo più davvero farne a meno di Gisela Cardia e dei suoi messaggi d'altra parte è abbastanza scontato sfottere e prendere in giro politici o altri personaggi famosi la nostra passione ormai è diventata Gisela Cardia la falsa veggente di Trevignano che è davvero si è prestata in questi ultimi mesi a farsi prendere in giro come poche persone riescono a farsi prendere in giro proprio per ciò che ha detto e fatto naturalmente lei e le persone che le sono accanto dunque dopo una breve pausa perché in realtà sono già parecchie ore che non parliamo di Gisela Cardia e questo è strano anche per noi per chi mi segue il mal di schiena è passato per cui senza alcun timore che di nuovo torni questo mal di schiena attendiamo un nuovo messaggio perché l'ho associato praticamente gli ultimi tre messaggi che ha pubblicato di Gisela Cardia sono coincisi perfettamente con un mal di schiena da parte mia non è un mal di schiena diffuso ma io avevo il mal di schiena proprio nel momento in cui c'era un nuovo messaggio di Gisela Cardia chissà se accadrà di nuovo allora sarà una conferma che probabilmente questi messaggi non mi fanno bene altrimenti era solo una piccola coincidenza una cosa è sicura Gisela Cardia ora che non abbiamo nemmeno più il campo delle rose come punto di riferimento devi essere ancora più presente nei social perché davvero sentiamo la tua mancanza questo è il nostro appello la stessa mancanza che oltre a noi sente anche profondamente il nostro cantautore immaginato autore delle nostre sigle che anche oggi ti dedica una sigla speciale venti a Mario Pucci di oh yeah Gisela ci manchi già avevi promesso che i tuoi messaggi fossero arrivati più spesso e già son passati almeno quattro giorni c'hai proprio spiazzati ma perché non torni torna a moltiplicare siamo tornati dal mare l'estate è già finita moltiplica la vita il caldo se ne va ma la vecchente tornerà il pesce puzzerà ma lei lo moltiplicherà torna a moltiplicare siamo tornati dalle vacanze non ci manca tanto il mare quanto ci stella e moltiplicare anche l'acqua se ne va ma la vecchente tornerà il pesce puzzerà ma lei lo moltiplicherà tanta Gisella non ci abbandonare dacci un messaggio tutte le settimane ora che al campo non ci puoi più andare è l'unico modo per farci sognare torna a moltiplicare siamo tornati dal mare l'estate è già finita moltiplica la vita il caldo se ne va ma la vecchente tornerà il pesce puzzerà ma lei lo moltiplicherà torna a moltiplicare siamo tornati dalle vacanze non ci manca non ci manca tanto il mare quanto ci stella e moltiplicare anche l'acqua se ne va ma la vecchente tornerà il sole pulserà e anche il sole moltiplicherà e moltiplica i messaggi oltre agli avanzi oltre agli assaggi e moltiplica le profezie oltre alle pizze le tue follie Santa Cisella vi lo trate ancora vieni a trovarci a qualsiasi ora Santa Cisella pari anche a noi così saremo per sempre i tuoi torna a moltiplicare siamo tornati dal mare l'estate è già finita moltiplica la vita il caldo se ne va ma la vecchente tornerà il pesce puzzerà ma lei lo moltiplicherà torna a moltiplicare siamo tornati dalle vacanze non ci manca tanto il mare quanto Cisella e moltiplicare anche la fa se ne va ma la vecchente tornerà il sole pulserà e anche il sole moltiplicherà e benvenuti a Radio UG On Air c'è Luigi Avella che scrive nel suo profilo ufficiale fratello Luigi Maria Gioioso ci sono novità grossissime molto significative chi vuole giocare lo faccia sulla propria pelle Mediaset e Rai sono avvisate nessuna partecipazione in tv chi parteciperà non dovrà pronunciare il mio nome ho avvisato il mio legale di presentare di fida a chiunque si ostina a farlo basta pagliacciate nei talk show televisivi la parola alla giustizia questo afferma Luigi Avella nel suo profilo ufficiale sappiamo come ha detto che non parteciperà ai talk show televisivi e di fida chiunque pronunci il suo nome durante questi talk show su Mediaset e Rai naturalmente chi utilizzi la sua figura e il suo nome a sproposito come purtroppo più volte è stato fatto ma nel post precedente a quello che vi ho letto Luigi Avella propone un'intervista un'intervista e un link che porta ad un'intervista che gli è stata fatta da Suor Letizia e secondo me un'intervista molto interessante che oggi vorrei leggere insieme a voi si intitola La Madonna del silenzio e della speranza diventa una stalking del malaugurio il carrozzone degli adepti ridotto al lumicino non resta che la strada dei follower sul web Suor Letizia intervista fratello Luigi Maria e direi che questa intervista già da questo titolo è proprio in sintonia con questo episodio infatti la nostra ironia sul fatto che è un episodio in attesa del prossimo messaggio della Madonna di Trevignano voleva dire proprio quello insomma che ora che si è ridotto così si è ridotta si è ridotto tutto questo e si è ridotta Gisella Cardia a presentarsi sul web non resta che la strada dei follower come dice il sottotitolo di questa intervista e proprio su questo abbiamo iniziato il nostro episodio ironizzando sul fatto che Gisella Cardia se vuole continuare ad andare avanti è costretta ormai come ha fatto dire alla Madonna di intensificare i suoi sforzi sul web e dunque anche i messaggi ricevuti dalla Madonna oppure chissà da Gesù o qualcun altro a sorpresa magari un messaggio di Padre Pio a Gisella Cardia un'apparizione di Padre Pio e un suo messaggio potrebbe attirare notevolmente l'attenzione ma perché faccio queste cose poi me ne rendo conto solo dopo perché suggerisco delle strategie a Gisella Cardia che possono essere funzionali non devo dare dei suggerimenti perché magari può accadere anche che mi prenda sul serio che dica bella idea ora lo faccio tanto Puggini che lo ascolta anche se l'ha detto prima lui io lo faccio tanto non se ne accorgono i miei adepti per cui non voglio dare suggerimenti a Gisella Cardia ci mancherebbe altro davvero non voglio dare suggerimenti a Gisella Cardia ma al posto suo in questa situazione davvero avrei cercato di pubblicare scrivere messaggi ecco che oltre Gesù è eclatante il messaggio di Gesù per cui è così poco credibile avrebbe fatto molto meglio davvero a dire ho ricevuto un messaggio da Padre Pio piuttosto che da non lo so Giovanni Paolo II per esempio il Papa che è santo se non erro non vorrei dire delle però mi sembra lo confermate anche voi scrivete qualcosa perché mi sto un attimo mi sembra sia un santo poi andremo a verificare però potremmo anche sbagliare ma Giovanni Paolo II ora dovrebbe essere santo per cui anche lui può apparire e lasciare dei messaggi come hanno fatto i santi in passato oppure se non l'hanno fatto che cambia insomma possono sempre iniziare a farlo con Gisella Cardia perché non un messaggio da parte ecco di un Papa Santo recente come Giovanni Paolo II che naturalmente stimano tanti cattolici così come lo stimo anch'io che non sono cattolico vabbè io lo stimo come autore come letterato per i suoi libri insomma per altri motivi per la sua efficacia la sua capacità comunicativa però ecco Gisella Cardia poteva sfruttare per esempio San Giovanni Paolo II non so esattamente come si chiami però poteva sfruttare per esempio lui come Papa visto che vuole diventare la nuova papessa di questo scisma in atto nella chiesa cattolica come abbiamo notato insomma dalle intercettazioni di cui abbiamo già parlato qui a Radio Pugino NER ci sono gli episodi dedicati ad ogni singolo argomento trovate di tutto andate a cercare nel podcast perché trovate davvero tutti gli vari approfondimenti su Gisella Cardia e le sue follie ma anche sulle intercettazioni con padre Scozzaro o Scozzaro ancora non ho capito se è Scozzaro o Scozzaro ma uno dei due in cui sembra chiaro l'intento di formare una nuova chiesa scismatica poi magari mi sbaglio non la sto accusando di nulla ma da quello che ho potuto leggere o ascoltare da queste intercettazioni sembra molto chiaro tutto questo oltre al fatto che per costruire questa chiesa servono soldi e Scozzaro anche cerca di farseli donare da la cucinotta e il marito in quella particolare intercettazione che abbiamo ascoltato e commentato insieme per costruire questo suo piccolo chiamiamolo monastero che avrebbe dovuto ospitare i sacerdoti che avrebbero aderito allo scisma chissà se questo progetto ancora è in atto oppure è stato abbandonato da Scozzaro che poi come sappiamo è stato investito da indagini e anche da arresti domiciliari allora lasciamo un attimo da parte l'ironia e leggiamo insieme e commentiamo questa intervista di Suor Letizia a fratello Luigi Maria perché è molto interessante ed è un'occasione per riflettere insieme poi come sempre nei commenti del nostro episodio ci confronteremo su quanto stiamo dicendo naturalmente le domande che leggerò sono le domande che Suor Letizia rivolge a Luigi Avella e così come sarà chiaro quando leggo le risposte insomma solo per dire che non ripeterò ogni volta Suor Letizia chiede e Luigi Avella risponde insomma è chiaro da ciò che leggeremo ora insieme fratello Luigi ha letto gli ultimi messaggi delle apparizioni di Trevignano Romano? Sì dalla farza siamo arrivati alla burlesque tutto fa brodo per attirare l'attenzione dei media la madonna cattiva pedagogista ripete sempre le stesse cose diventando una cantilena insopportabile la visionaria vorrebbe che la madonna fosse a sua immagine e somiglianza una squilibrata che ha perso il senso e la ragione gli inglesi direbbero sorridendo è pittoresca il tre del mese la madonna è apparsa in una cantina dicono i detrattori lei cosa ne pensa? è stata una trovata geniale farla apparire dietro alle lenzuola la visionaria doveva stupire con gli effetti speciali ed è riuscita in modo mirabile mentre molti si affannavano di sapere da quale posto ci fosse la diretta io ho subito immaginato apprezzando la sceneggiatura che trasmettessero o dal fronte dell'Ucraina o dalla striscia di Gaza allora non è vero che dovessero nascondere il luogo per non farlo riconoscere? lei attraverso una parete riconosce la casa degli italiani non scherziamo il messaggio era rivolto alle autorità religiose per sottolineare la figura dei rifugiati e dei perseguitati un escamotagge per sentirsi martire della fede un messaggio subliminale per dire è iniziata la persecuzione e ci troviamo nei rifugi nascosti come i primi cristiani anche la visionaria era vestita di nero per aumentare la drammaticità del momento hanno annunciato ricorso al tar per mancata notifica sulla confisca lei cosa ne pensa? innanzitutto tanta tristezza vedendo che fine fanno le offerte tutte a ricorsi ad avvocati una specie di persecuzione morale dopo diversi ricorsi il risultato è sempre lo stesso alla fine si sono sentiti espellere da trevignano romano sia da casa che dal terreno qualcuno dice che abitano nella stessa casa secondo lei è vero? che importanza la padrona di casa ha detto che sono andati via e non intende affittare o vendere l'appartamento il vicino di casa li ha visti andare via con il tir un signore anziano che li conosce ha confermato che hanno traslocato i parenti a Caltanissetta hanno confermato l'arrivo del tir sotto casa della madre perché secondo lei non ha nessuna importanza sia per le notifiche legali e sia per la sede legale dell'associazione il termine di 20 giorni del cambio di residenza è scaduto secondo lei possono nascondere la sede legale dell'associazione? ci sarebbero serie sanzioni anche per la notifica della confisca ne vedremo delle belle aspettiamo che Pulcinella ci dirà la verità al comune conoscono la nuova residenza? certamente il cambio riguarda il cambio di residenza tra il comune di Trevignano Romano e il nuovo comune che li ha accolti oppure il cambio della strada nello stesso comune perché secondo lei nascondono questa notizia sul trasloco? fa parte della sceneggiata il Tre si trovavano in Ucraina il prossimo Tre a Gaza alla fine del raduno di preghiera alzato le dita in segno di vittoria possibile che abitano in una tenda da guerra in attesa della terza guerra mondiale e come vediamo esce sempre fuori una fantastica ironia da parte di Luigi Avella e prosegue sua Letizia con un'altra domanda lei che l'ha conosciuta quale sentimento alberga nell'animo di Gisella? è difficile conoscere l'essere umano ma dalla mia esperienza la immagino che cammina avanti e indietro fumando pacchetti di camel per la sorpresa da tante defezioni la dichiarazione dell'attrice con l'uccellino l'ha mandata in paranoia ho la certezza che è andata diverse volte a cena e sentirsi dire che si trovasse lì per caso deve averle fatto alzare la pressione arteriosa l'hanno abbandonata in molti? purtroppo si avviene nella vita di essere osannati e poi biasimati resta lo zoccolo duro non per convinzione ma per costrizione costrizione sì costrizione cosa vuole che faccia un biografo che ha scritto tanti libri a favore rinegare significa ritirare i suoi scritti oppure un tagliaerba che è diventato il simbolo del custode della collina della santità anche se incominciasse a dubitare sarebbe dura non sentirsi appagato a pulire il campo delle rose con il mio trattorino tagliaerba spesso mi viene in mente la segretaria di dio che la sostituisce nelle preghiere cosa farebbe senza questo incarico di prescelta da dio stiamo assistendo alla fine dipende se la fine è la credibilità senza altro sì se la fine è la continuazione della sceneggiata no c'è il web che raccoglie tutti questi personaggi a volte le visualizzazioni sono numeri per curiosità ma vengono venduti per follower ci saranno risvolti legali per questa truffa non lo so ancora la procura indaga a volte sono sfiduciato per i tempi lunghi altre volte sono fiducioso quando mi dicono che le indagini riguardano anche personaggi collaterali e corresponsabili bocche cucite su indagini che riguardano il movimento di denaro da non disprezzare eventuali intercettazioni ambientali l'indagine su Scozzaro ci insegna molte cose mai dire mai lei ha annunciato che non andrà più in tv perché cosa vado a fare se non ho nulla da dire mi invento che mi hanno minacciato aia questo secondo me è un chiaro riferimento a qualcuno oppure che la gallina ha fatto l'uovo di plastica sono abbastanza serio per scendere nel ridicolo anche se sono autoironico dunque rinuncia al duello con i legali di Gisella lei conosce le promesse del battesimo si rinuncio la Felli prenderà il suo posto non è geloso se fossi geloso risponderei a tutte le richieste che mi sono pervenute anzi mi fa piacere lo scontro tra occhiali e tende l'importante che non faccia il mio nome ricordo che l'ho querelata per calunnia e diffamazione non ho bisogno della difesa della signora ex portavoce che importanza ha avuto il giornalista Paolo Capresi in questa storia grande importanza e grande fiducia non è escluso che possa fare utilizzo del mio archivio per svelare segreti gravi che coinvolgeranno alcune persone so che ci saranno pubblicazioni interessanti nel prossimo futuro verità scomode che faranno molto male i tempi non li decido io mi hanno spiegato che è come una partita a scacchi dove la mossa vincente è lo scacco matto grazie e buona giornata dice suor Letizia risponde Luigi Avella pace e bene e bene dunque in questa intervista che abbiamo letto di suor Letizia a Luigi Avella o fratello Maria gioioso davvero ci sono tanti spunti di riflessione molto molto interessanti che ci fanno anche capire che la storia davvero non finisce qui ma ci saranno dei risvolti che noi attendiamo molto interessante dal punto di vista di osservatore ciò che dice Luigi Avella riguardo a quando gli chiede ma perché non vai in tv ma perché cosa dovrei farmi inventarmi delle minacce finte insomma sembra un chiaro riferimento a Paola Felli ma io non voglio così naturalmente non posso non commentare questa cosa però e notare dunque che tra Paola Felli e Luigi Avella che in un certo momento sembrava invece esserci un certo una certa solidarietà in questo momento sembrano invece non essere diciamo in buonissimi rapporti ma questo è gossip stupido che fanno quelli come me certo l'unione fa la forza ma non è detto che bisogna per forza combattere fianco a fianco l'importante che ancora ci siano molte persone ognuna a modo suo Paola Felli sta andando in tv Luigi Avella non ci va ma ognuno sta davvero continuando a fare la propria parte per cercare di portare pian piano sempre di più a galla la verità e dunque cercare di chiudere in positivo per tutti coloro che sono convinti sia una falsa veggente Gisella Cardia così come dice la Chiesa Cattolica l'importante in questa battaglia è non mollare ma continuare a fare ognuno a modo suo la propria parte e Luigi Avella anche con la sua ironia e il suo senso dell'umorismo davvero continua a fare la sua parte a combattere a lottare anche attraverso i social come avete visto e abbiamo visto anche negli ultimi giorni quando a un certo punto nonostante la richiesta dell'autorità a quanto pare di non utilizzare più il suo profilo ufficiale invece ha detto no io sto qui continuo a combattere da qui e questo ci ha reso molto felici perché è molto importante che Luigi Avella continui a fare la sua parte e non ne siamo molto felici detto questo credo che abbiamo condiviso insieme delle riflessioni molto importanti questa intervista era molto importante in attesa del prossimo messaggio da parte di Gisella Cardia e vediamo se ancora ci stupirà con altre profezie apocalittiche su terremoti pandemie e candeline da tenere strette vicino a sé oppure tornerà Gesù a dire Gisella non mi abbandonare anche tu continua a fare la veggente chi sa vedremo come andrà vedremo se davvero com'è ha promesso la Madonna di Trevignano i messaggi saranno più frequenti dunque nelle prossime ore ci sarà un nuovo messaggio illuminante chissà se Gisella Cardia ora si trova a Trevignano Romano oppure magari non lo so ad una città a caso tipo Caltanissetta perché come conferma Vella sembra essersi trasferita lì magari già si dedica ad altro magari lavora in un bar e moltiplica vino e birra e fa felici tutti i clienti ma non per ubriacarli perché lei ubriaca è molto abile ad ubriacare le persone con questi falsi messaggi con tutte le bugie che ha detto sinora bugie naturalmente come ha detto la chiesa cattolica perché io non sarei in grado di dimostrare e non lo affermo che lei dica bugie voglio vedere lei però in che modo ci può dimostrare che non sta dicendo delle bugie che davvero appare la madonna in che modo può dimostrarcelo naturalmente scientificamente in modo inconfutabile altrimenti sono tutte chiacchiere nel momento in cui ognuno afferma di vedere ricevere eccetera eccetera delle cose soprannaturali o avere delle visioni soprannaturali qualcosa che non si può dimostrare sarà naturalmente chi lo afferma a doverlo dimostrare non chi lo critica almeno questa sarebbe la logica cioè dovrebbe essere la normalità se io inizio a diffondere a pubblicare a divulgare i messaggi della madonna di radio Puginonair a Marco Pugini sarò io a dover dimostrare che questi messaggi sono reali visto che lo affermo noi non chi è scettico nei miei confronti naturalmente e questo a mio avviso vale per tutti non solo per Gisella Cardia bene il nostro tempo per oggi è finito anche la mia voce le mie energie per cui vi invito a restare sintonizzati con radio Puginonair per i prossimi aggiornamenti su questo caso che ormai è anche il nostro caso se ci fate caso Radio Puginonair Quella della Cardia è una storia complessa vicino all'elesia è una nuova papessa la storia della Gisella merita una riflessione moltiplica ogni padella e dai segni della passione Gisella Gisella fammi dormire tranquillo Gisella Gisella fammi almeno uno squillo Gisella Gisella mandami un messaggio della Madonna Gesù se no non dormo più Gisella Gisella siamo tutti in attesa Gisella Gisella dove la nuova chiesa Gisella Gisella mandami un assaggio e gli occhi o coniglio se no non mi ripino o coniglio grazie per averci ascoltato la nostra profezia e questa tra poche ore arriverà un nuovo messaggio della cardia che tutti i seguanti spazzerà via non mancate al prossimo episodio di Radio Puccini Gisella 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 fammi dormire tranquillo Gisella Gisella fammi almeno uno squillo Gisella Gisella mandami un messaggio della Madonna Gesù se no non dormo più Gisella Gisella siamo tutti in attesa Gisella 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 dove la nuova chiesa Gisella Gisella mandami un assaggio e gli occhi o coniglio se no non mi ripino Gisella 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 Gisella